ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video io sono gabriele benvenuti anche sul nostro camper oggi in questo video andremo a parlare di un argomento sicuramente complicato e un po controverso e soprattutto dibattuto tra noi camperisti ovvero la batteria dei servizi sì proprio perché tra qualche giorno noi dovremo partire per andare in vacanza e la nostra batteria purtroppo ci ha praticamente lasciato per fortuna ce ne siamo accorti prima in che modo durante il giorno abbiamo anche il pannello solare quindi la batteria si carica la sera è praticamente sempre piena cosa succede che al mattino sovente ci troviamo con la batteria a zero o addirittura mi è successo l'altro giorno la batteria completamente a zero e quindi tutte le utenze completamente scollegate quindi oggi vi spiegherò due o tre cose perché mi sono recato in un centro specializzato appunto in batterie e ho chiesto un pochino di informazioni ne abbiamo ne ho acquistata ne abbiamo acquistata una nuova leggermente diversa da quella che avevamo prima che in realtà non ha tantissima vita perché abbiamo sostituita circa un anno un anno e mezzo fa quindi non tantissimo posso anche dire sicuramente l'abbiamo utilizzata parecchio nel senso che il camper noi lo utilizziamo sovente sovente noi siamo in libera quindi la batteria ha parecchi cicli tra carica e scarica nonostante ciò però e se era una batteria a gm sicuramente ecco probabilmente ha avuto qualche problema non l'abbiamo fatto sicuramente scariche profonde quindi non dovrebbe essersi danneggiata è vero che ancora in garanzia adesso ho contattato l'assistenza però per essere sicuro ho provato a cambiare completamente marca e acquistano un modello nuovo che vi svelerò tra pochissimo quindi subito dopo la sigla ma ragazzi se non l'avete ancora fatto io vi ricordo iscrivetevi al nostro canale a voi non costa nulla ma è un grosso veramente grosso supporto che potete dare a noi per la realizzazione di altri contenuti come questo quindi tutte queste informazioni le avrete sicuramente tra pochissimo io nel frattempo vi ricordo se questo video sarà di vostro gradimento mi raccomando metteteci un like se pensate che possa essere utile a qualche vostro amico mi raccomando condividetelo scriveteci qua sotto nei commenti sono sicuro che sotto questo video ce ne saranno parecchi commenti perché tra poco vi svelerò alcune cose che ho scoperto perlomeno che mi hanno spiegato in questo centro batterie tutto questo però ragazzi lo scoprirete subito dopo la sigla ed eccoci qua la batteria ragazzi è questa qua come sapete sono molto pesanti le batterie e appunto mi sono recato in questo centro specializzato per le batterie non solo dei camper un centro specializzato per le batterie di tutto anche dei camion delle macchine quindi non soltanto specifico per i camper gli ho spiegato un pochino le nostre esigenze come soprattutto utilizziamo noi il camper e mi ha consigliato questa batteria che vi ho appena mostrato in realtà non è una gm ok quindi non è batteria al gel ma è una batteria ciclica quindi di per sé teoricamente anche leggermente più economica delle agm ma destinata proprio a fare cicli anche perché noi che facciamo principalmente e soprattutto prevalentemente libera di cicli ne fa parecchi e questa batteria qua nuova dovrebbe funzionare meglio e diciamo essere più adatta lo so già che qualcuno sicuramente nei commenti mi scriverà di fare attenzione perché ovviamente le agm sono completamente chiuse quindi non hanno assolutamente bisogno di manutenzione invece questa batteria qua una batteria diciamo normale non da da motore e quindi non da motore ma una batteria ciclica e quindi ha bisogno comunque di manutenzione che cosa si intende per manutenzione una volta all'anno bisogna aprirla quindi svitare praticamente i tappini e controllare che ci sia il liquido mi sono anche informato ho chiesto bene per il discorso odori puzze eccetera eccetera comunque gas che magari vengono prodotti dalla batteria mi è stato detto che le agm chiaramente essendo completamente sigillate questo problema non ce l'hanno quindi non sicuramente non generano odori ma nello specifico questa batteria qua ciclica se dovesse diciamo produrre odori quindi creare puzza in realtà è un segnale per dire che c'è qualcosa che non va e l'unica cosa che può esserci che non va mi è stata detta se manca il liquido quindi il consiglio chiaramente è stato una volta all'anno di aprirla e controllare i livelli del liquido nel caso in cui non fossero non ci fosse abbastanza liquido chiaramente di aggiungerci dell'acqua demineralizzata quindi noi la proveremo perché appunto di agm ne abbiamo già cambiate ben due in poco più di quattro anni e quindi vediamo se con questa batteria riusciamo a ottenere qualcosa di meglio sicuramente potevamo puntare anche alle batterie al litio ma ho chiesto anche appunto un consiglio loro chiaramente si possono montare se posso installare batteria al litio non ha il problema della della scarica profonda quindi sicuramente è un prodotto migliore o comunque più innovativo sicuramente più moderno più all'avanguardia ma a livello economico la differenza è sostanziale e mi è stato consigliato di valutare eventualmente non l'acquisto di una batteria al litio perché costano veramente care e poi soprattutto se uno ha bisogno anche per avere la 220 sul camper serve anche poi l'inverter che deve essere comunque di una certa potenza ma mi è stato consigliato di acquistare una power station che adesso anche vanno abbastanza di moda e con prezzi leggermente più modici sicuramente si riesce a comprare questo blocco che comprende già batteria e invertere si può collegare anche sono le prese usb ci si può collegare tutto ma su questo faremo un video prossimamente a breve perché appunto mi sono recato in questo centro batterie e mi ha dato la possibilità di provare questa power station collegata direttamente al camper e ragazzi non ci credevo ma sono riuscito a far funzionare anche il condizionatore quindi questo è un argomento che non vi accenno solo in questo video ma iscrivetevi al canale perché presto probabilmente ne uscirà un altro con un video di questa recensione di questo test e poi vi dico non mi dispiacerebbe anche provare a contattare direttamente la bluetti e fare un test con una power station della bluetti chiaramente top di gamma quindi vediamo non è da escludere che magari più avanti uscirà sul canale anche questo test quindi vi dicevo adesso andremo a montare questa batteria ovviamente quella litio sono più leggere questa è abbastanza pesante adesso non so dirvi di preciso i chili e quindi andremo a rimuovere la batteria vecchia esaurita e andremo installare questa due tre accorgimenti importanti per fare la sostituzione della batteria così ve li dico subito allora chiaramente bisogna non essere collegati alla corrente elettrica quindi scollegare se per caso siete collegate la corrente scollegare la presa della corrente elettrica un consiglio che mi è stato dato però in realtà ho chiesto chiesto un po in giro c'è chi ritiene una cosa che ne ritiene un'altra per sicurezza lo facciamo noi qua abbiamo il pannello solare che carica la batteria per precauzioni mi è stato consigliato comunque di coprire il pannello solare non ci costa nulla di metterci sopra un telo un asciugamano quindi coprirlo per il tempo della sostituzione della batteria e poi cosa importantissima come procedere con diciamo lo scollegare la batteria esistente e poi andare a collegare questa allora per prima cosa bisogna staccare il polo negativo quindi quello con il meno quello che possiamo dire ecco qua vedete questo qua il cappuccio con il meno quindi quello che solitamente è collegato al cavo nero quindi prima si stacca quello e poi si stacca il positivo si andrà poi a rimuovere la batteria vecchia si va a installare questa nuova che tra l'altro questa nuova è anche leggermente più piccola dell'altra quindi occupa leggermente meno spazio per il collegamento invece si fa esattamente il contrario bisogna prima collegare il positivo questi sono i cappucci di protezione della batteria nuova quindi il positivo che di solito è contrassegnato col colore rosso e poi soltanto per ultimo andare a collegare il polo negativo adesso faremo tutto questo e così lo vedrete e andremo finalmente a testare la batteria perché tra qualche giorno partiremo per la bretagna e normandia e quindi speriamo di aver corrente di riuscire a fare tutto il viaggio in tranquillità come al solito a noi piace molto la libera quindi probabilmente staremo parecchio in libera quindi la batteria sicuramente per noi è molto importante adesso penso di aver parlato abbastanza ragazzi mettiamoci al lavoro quindi inizio allora vado prima di tutto a staccare la corrente dopodiché vado a coprire il pannello solare e poi andremo effettivamente a fare i cambi della batteria ragazzi si va al lavoro ecco ragazzi adesso passiamo al collegamento noi abbiamo questi collettori qua che sono quelli comunque diciamo rapidi basta metterli schiacciare giù uno abbiamo collegato il positivo qua invece abbiamo il negativo contrassegnato dal cappuccio lo vediamo lì sotto e anche qua negativo stesso lavoro si mette qua e si preme a fondo ok la batteria è collegata però la batteria è collegata vediamo subito che in questo momento da 12,2 volt di tensione e quindi è circa il 72 per cento adesso chiaramente vado a staccare il a scoprire di nuovo il pannello solare e vado a ripiantare la spina del camper così almeno andrà a caricarsi completamente e vedremo poi se funzionerà chiaramente le misure sono diverse quindi ricordatevi di fissare bene la batteria adesso da fissare questi angolari per tenerla ferma ragazzi quindi batteria sostituita adesso non ci resta che lasciarle in carica tutta la notte poi domani faremo il test e poi si parte finalmente per le vacanze se questo video vi è piaciuto ragazzi ricordatevi un like scrivetemi commenti qua sotto so già che ce ne saranno parecchi commenti e appunto questa è la batteria che adesso andremo a testare una batteria quindi ciclica e non più agm ricordo che la gm si possono anche posizionare in diciamo inclinate invece chiaramente o comunque appoggiate su girate che invece chiaramente questa qua una batteria ciclica va tenuta sempre nella posizione corretta quindi con la parte alta con la parte dei connettori verso l'alto io vi saluto ci vediamo ovviamente il prossimo video ciao ragazzi ciao ciao ciao